La medicina integrata ha un approccio che include oltre ai piani terapeutici convenzionali anche il supporto e l'intervento psicologico e nutrizionale, il trattamento con agopuntura e ozonoterapia, con fitoterapia, nonché il supporto nell'adozione di stili di vita attivi e la pratica dell'esercizio fisico in tutte le sue forme, senza dimenticare l'importanza della pratica di attività su base meditativa ed espressiva come la mindfulness, il canto, il teatro, la musica e molto altro. Nella medicina integrata non c'è una ricetta standard. A ognuno sono proposte e applicate le pratiche più congeniali, perché ognuno ha caratteristiche e necessità diverse. Come diversi sono i tempi di adattamento al cambiamento. La medicina integrata è un gioco di squadra. Con e per la persona.